la domanda è perché hai aspettato fino a novembre a far uscire stop the rain quando serviva prima dell'estate bastava una canzone c'è tutti che si dicono mi raccomando prima fai un paio di chiamate ai centri meteo magari realizzo delle versioni remix stop the rain stop qualsiasi cosa bastasse una canzone a risolvere le cose si è fermato tutto è uscito il sole assolutamente sì assolutamente sì ultimamente i vari ospiti indicano come percorso un'uscita periodica di un tot di brani che poi eventualmente va a formare invece tu sei sì io questo disco lo voglio vivere tutto con i miei fan bravo ma poi c'è un po' di varietà sul teo non è che deve esserci una strategia unica per tutti quanti ma poi ho visto con quale non shanai si ha calcato il red carpet era dei tempi di katrine ebbon che non vedevo un no ma sai che ho fatto io siccome non mi era mai capitato sono andato mentre arrivavo sono messo su mentre ero in treno mi sono messo su con l'ipad nel treno ho visto tutte le foto tipo di ben affleck quindi ho visto un po' le cose un po' le pose eri divo allo stato puro ho detto se bisogna sognare bisogna sognare bene in realtà e poi è stato strano vedermi anche vestito per la prima volta così per me insomma non mi era mai capitato un'occasione del genere a proposito di vita vissuta abbiamo parlato di questa pausa di riflessione del ritorno per qualche mese alla tua famiglia che salutiamo perché finalmente è una famiglia felice si è liberata è vero funziona così cioè il vitello grasso su quelle cose di oh beh figlio il prodigo così vai adesso dopo i 3, 4, 5 giorni invece lui è stato nei mesi faceva domande diceva cose lì ti sei un po' ridocumentato sulla vita in generale sui tuoi genitori non a caso poi è uscita anche una canzone dedicata a tuo padre a mio papà che si chiama Stay l'ho dedicata perché io ho un rapporto molto diverso con i miei genitori come madre ci sentiamo tantissime volte al giorno parliamo delle cose più quotidiane però col passare il tempo mi sono reso conto che io sono molto simile a mio padre noi siamo molto riflessivi molto sentimentali siamo proprio del sud pesantemente con lui ho parlato di molte cose in questi per la prima volta mi sono sentito mi è venuto spontaneo fargli delle domande perché mi sedevo a tavola mi rendevo conto che ogni volta li vedevo con un occhio diverso e allora gli ho chiesto ma cioè come hai fatto a innamorarti di nuovo? lui ha una storia molto particolare ha vissuto dei dolori grandi per i quali spesso ci si chiude dentro e non ci si dà più la possibilità di innamorarsi e siccome io in quel periodo stavo vivendo una situazione che non mi rendeva felice gli ho chiesto ho detto ma senti ma se io per due, tre, tre anni di relazione mi sento malissimo ma tu come hai fatto? e lo dico in questa canzone e poi niente poi ci sono state tantissime attenzioni ho visto come si guardano dopo 32 anni gli sguardi della gelosia vai? ah vai ok oppure ecco una cosa stranissima che è successa io avevo ascoltato una canzone prima di partire, prima di andare giù che è Missing You di John Wade e me l'ero segnata perché ho detto bellissima questa faccio la cover, è troppo bella vado giù, c'era un canale musicale acceso passa questa canzone e mio padre va da mia madre e fa Anna ma te la ricordi questa quando la ballavamo? ho detto no pensate, allora subito, cioè ho fatto subito delle ricerche ho capito, ho letto che è uscita proprio nel 1984 che quando loro mi aspettavano praticamente e l'ho voluto realizzare per questo brano mi sono, dato che comunque mi rivedo anche nel test insomma sono tante coincidenze ho chiamato un ospite d'eccezione che è Antonella Lococo ah, mi ti canto, che salutiamo lei è stata fantastica è stata una delle prime artiste a cui ho pensato perché è molto fresca è molto sta in piedi nel suo progetto fa le cose che davvero vuole fare è molto coerente non voglio dire che le altre ragazze di talent non lo sono però mi ha colpito molto proprio una sua maturità e indipendenza artistica e poi nel brano insomma l'ascoltate perfetta molto bene allora hai nominato la mamma, il papà, possiamo dire il nome? Enzo, sì Enzo, Enzo, Anna, tutto a posto, sta bene tutto e non hai intenzione di tornare no, li tranquillizzo perché sono preoccupato per un po' di mesi mi sa che no, no, va benissimo sono un po' in giro e ciao